Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchie all'interno del mondo open source Puntata lampo, puntata dedicata a chiedere a voi lettori se avete effettuato il passaggio da Ubuntu 14.04 e derivate a Ubuntu 14.10 e derivate Perché ve lo chiedo? Perché si è passati da una LTS che sostanzialmente gira bene Ad una release intermedia che però non ha aggiunto chissà quali novità Praticamente sono quasi nube, sia dal fronte Unity, distro principale, sia dal fronte delle derivate C'è soltanto l'aggiornamento dei vari desktop environment all'ultima versione E comunque si può fare anche in altre vie tramite i repository aggiuntivi L'unica grande novità di questo rilascio è che si è aggiunta la famiglia Ubuntu Mate Ubuntu Mate è la versione di Ubuntu con Mate desktop Che praticamente non è altro che il caro vecchio Gnome 2 che tanto piaceva a tutti Chiedo dunque a voi lettori se avete aggiornato Perché avete aggiornato, perché non avete aggiornato Se avete provato Ubuntu Mate, che cosa ne pensate? La parola a voi lettori Lunga vita e prosperità a tutti quanti E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao